Quest'oggi voglio parlare di un libro che ha il titolo Mindscapes, è un libro che tratta in maniera molto chiara e molto suggestivo il tema dei paesaggi della mente. Che cosa sono i paesaggi della mente? Sono quelle situazioni nelle quali noi tutti quanti attingiamo e sono paesaggi che riguardano la nostra infanzia, il nostro vissuto, tutto quello che ci ha colpito nell'arco della nostra storia. Ha molto a che fare tra quello che noi definiamo il mondo interno e molto spesso questi elementi vengono immagazzinati dentro di noi in una sorta di rifugio, di una sorta di giardino della mente che è molto importante avere. Vittorio Ringgiardi ce lo spiega in maniera molto interessante facendo dialogare non soltanto la clinica, quindi la psicologia applicata, ma anche i riferimenti che vengono in maniera molto suggestiva ma altrettanto efficace dalla letteratura, dalla poesia, dall'arte e dai quadri. È un libro fruibile a tutti ed è un libro che raccoglie una serie di aspetti sia sul piano culturale, sia sul piano clinico che su quello naturalmente personale che l'autore ci fa cogliere. Un libro che consiglio in maniera interessata che vi darà delle ottime suggestioni e delle situazioni nelle quali vi troverete sicuramente.